collaborare come si può collaborare nel mondo delle aste senza essere egoisti aiutando il prossimo guadagnando tutti in maniera etica profittevole bla 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 tutte belle cose belle notizie se resterai fino alla fine di questo video ti spiegherò come secondo il mio punto di vista secondo il mio core business secondo il mio know how la mia etica possiamo collaborare e fare in modo di rendere il mondo delle aste un posto migliore allora amici benvenuti come vi dicevo lo scopo di questo video è quello di dialogare argomentare insieme a voi la possibilità di collaborare vedete io sono un professionista almeno ci provo a reputarmi professionista che dal 2007 mi sono ritrovato per puro caso in qualche modo nel mondo delle aste immobiliari e da lì da quel giorno non ho più smesso ho solo cambiato direzione ho cambiato la mia bussola inizialmente come tutti mi ritrovo nel mondo delle aste per fare business per comprare gli immobili all'asta cercando di fare delle plusvalenze la l'errore era quello di non andare a pormi le domande giuste prima di comprare un immobile basta che l'immobile era diciamo messo bene sotto il profilo estetico comunque in qualche contesto buono che a livello catastale urbanistico stava bene e che soprattutto il debitore non era una persona che poteva crearmi problemi quando queste due tre cose combaciavano il prezzo era interessante proviamo a partecipare poi per varie ragioni che ho già raccontato brevemente mi è accaduto che ho comprato partecipato all'asta di una casa all'asta c'era il debitore esecutato all'epoca erano di presenza che stava lì nell'angolo che piangeva mentre noi investitori e tipi toghi stavamo lì a farci rilanci l'uno sull'altro per cercare di comprare casa sua e vi posso assicurare assicurare che io non so voi ma a me quella scena mi è ancora mi è capitata anche qualche volta di sognarla e da allora ho capito che c'era qualcosa che non andava nel lavoro che facevo invece poi vabbè la maggior parte degli altri conosco ancora le persone poi chi fa le aste sono sempre gli stessi soprattutto nei paesi e quelle persone ci sono molte di quelle persone a quella sta continuano a fare aste invece a me è stato un qualcosa proprio è stato un rigetto andava contro la mia natura fare del male a qualcuno che la mia natura non è contro la mia natura il non fare male alle persone la mia natura era fare fare del contro la mia natura non far male a chi non mi ha fatto nulla quindi il problema mio non era fare del male alle persone era farlo a chi non mi aveva fatto nulla e solo perché in nome del business io dovevo attaccare quella persona che poi cioè non mi cambiava la vita quell'operazione e non esiste un'operazione all'asta che cambia la vita alle persone quindi sul piatto della bilancia per me non ne valeva la pena era ingiusto quello che sta facendo e poi mi capitò neanche il caso volle che dopo quell'episodio che non mi faceva stare bene aiutai una persona un amico che aveva la casa all'asta per la prima volta aiutai una persona che l'aveva a casa all'asta guadagna qualcosa e dissi cazzo ma qua aiutando le persone si può anche guadagnare allora capì questo era il 2010 dopo tre anni provato a fare il cattivo nel mondo delle aste che dal 2010 in poi volevo occuparmi della difesa del debitore e da allora credetemi ho provato a inventarmene di tutti i colori perché la maggior parte dei professionisti se non è così dimmelo nei commenti pensa di stare in questo business dalla parte del debitore esecutato andando ad offrire a tutti la stessa cosa la legge 3 le sdebitazioni il sovrindebitamento e io mi arrabbio mi faccio come una gliena perché dico io ti faccio una domanda no voglio recuperare l'immobile anzi lo dico di qua ti faccio una domanda voglio recuperare voglio casa mia non voglio non me ne fotte un cazzo di tornare ad avere i finanziamenti voglio poter avere la casa mia dove sto con la mia famiglia come devo fare e questi professionisti tutti che ti vogliono vendere sta legge 3 tutti che ti dicono ma io così ti riabilito ma che me ne frega a me cioè la persona che ha una casa all'asta ne ha passate tante l'orgoglio le mortificazioni dire alla figlia e alla moglie andiamo per strada e quel non ha pagherebbe qualsiasi somma pur di non far accadere una cosa del genere e tu invece sfrutti il fatto che lui è debole in quel momento gli vuoi vendere tu professionista di turno che non sai fare altro che vendergli una cosa una pizza questo è sarà legge 3 facciamo legge 3 legge 3 legge 3 ti prendi gli acconti lo truffi anche a volte perché alla fine la procedura esecutiva avanti la legge 3 va per i caspiti suoi intanto il magistrato si è venduto casa in tribunale tu stai ancora cercando di applicare la legge 3 e poi pure se vai in buono in importo che cos'è lo riabiliti ma la legge 3 prevede la vendita del bene quindi e tu poi lo convinci che quella era la migliore scelta per lui ecco vedete invece io ho fatto tutt'altro il mio successo lavorativo perché in fondo ho più lavoro di quanto io quasi oggi ne potessi gestire con tutto che abbiamo un team e ci facciamo pagare il risultato quindi mi vedete stampato sto cazzo di sorriso è perché portiamo risultati ci pagano il risultato e quindi vedete che il tempo è stato galantuomo con me e vi posso assicurare che quando una persona gli dice che il mio lavoro è prendere l'immobile e tornarlo ai legittimi proprietari soprattutto mi paghi quando ci riesco chi dovrebbe dirti di no soprattutto quando vedi che noi siamo verticali in questo quindi questo anche che è un video un po' marchetta dove parlo di me raramente lo faccio ma in questo video era per invitare le collaborazioni cioè se voi tu che stai guardando questo video lo puoi condividere a un agente immobiliare un agente finanziario un notaio un architetto un geometra un avvocato io ho tanti studi legali convenzionati che sono bravi dell'infortunistica stradale tutta la parte esecuzione contenziosa o bancario glielo curo io dei propri clienti perché loro riconoscono la loro incapacità e le loro conoscenze verticali in materia difesa del debitore quindi lo lasciano fare a me ed ecco che può nascere una sinergia quindi siamo tutti win 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 il debitore salva la casa noi guadagniamo tu convenzionata con un altro cliente guadagnato e soprattutto quando il debitore non ha i soldi noi troviamo i soldi come gli advisor cerchiamo qualcuno che mette i soldi e risolve il problema al debitore e tra parentesi facciamo anche poi riacquistare l'immobile tramite operazione bancaria al debitore quando si tratta di fare una DPO cioè un'offerta a saldo e stralcio con i soldi dell'investitore ma noi siamo anche ormai come studio potrei dire abbastanza esperti lo dicono i nostri numeri nel contenzioso bancario quindi trattative contro i grandi service Prelios, Amco, Duvaliu, IFIS, Banca IFIS, Intrum quindi tutti questi grandi service 115-106 col quale noi abbiamo contatti anche perché poi siamo anche io col team io personalmente fiduciario di una 106 quindi siamo anche nel mondo degli NPL delle cessioni dei credit quindi io non mi interessa a me fare business non sono quella ricerca del business sono alla ricerca di fare il mio lavoro cioè prendere gli immobili e tornare legittimi proprietari invito chiunque di voi a un confronto con me per valutare in diretta o nel modo in cui reputa più opportuno competenze professionalità numeri conoscenze storia di quello che abbiamo fatto in passato e quindi me la sto sbattendo ma lo invito anche poi a un confronto se qualcuno va altrimenti potete tranquillamente condividere questo contenuto per chi pensate ne abbia bisogno perché salvare la casa si può fare quando il debitore non ha i soldi si devono trovare i soldi di un investitore perché i banchi non li dà ma prima di far mettere i soldi ad un investitore bisogna già sapere come il debitore potrà riaccedere a un mutuo ad esempio per ricomprare per fare un acquisto prima casa logicamente io non parlo del debitore disecutato perché di per sé lui ormai deve essere gestito i suoi debiti devono andare a morire con lui va tutelato e organizzato in quel senso io parlo di parenti di persone della famiglia nipoti cugini e altri tipi di figure comunque segnalate dal debitore con i quali poi noi andremo a fare un'operazione di riacquisto principalmente acquisto prima casa quella almeno è una delle cose principali che facciamo poi facciamo anche la cessione del credito ci sostituiamo alla banca e diamo la possibilità al debitore proprio in quel caso di pagare a rate di rientrare quando ha finito di pagare come il mutuo si fa nulla a pretendere la casa è tutto tranquillo quindi veramente possiamo parlare e fare tante belle cose però devi dare l'opportunità devi seguirmi devi non sono una lampada di aladino ma sicuramente sono uno profittevole che si fa pagare il risultato questo io con tutto il mio tipo spero e credo di aver fatto cosa buona e giusta lo sapete sempre in conclusione di ogni mio contenuto invito tutti voi ad essere sempre buoni e giusti e soprattutto ad essere buoni con i buoni a fare i cattivi con i cattivi non mettervi a fare i cattivi con i buoni come fa la maggior parte delle persone quindi buona vita a tutti voi ci vediamo qui iscriviti al canale youtube ora scriviti vedi ti vedo vedi ti sto pure puntando il laser contro ti vedo iscriviti al canale non mi interessa e mi piace altre cose iscriviti e attiva la campanellina e rimane aggiornato su tutti i contenuti ciao